dove vanno a prendere i soldi, ma io spero che ne abbiano tanti i soldi per presentare tutte le carte che volete voi perché che vuol di soldi? Io quello che non ho sentito questa sera, mi dispiace Fobia, avete parlato di verde di pratiche, dobbiamo andare a girare, aspetti no, aspetti, non parli perché se no non capisci quello che dico perché qua mi comincio anche un po' salgato come fanno giù dove hanno i soldi là a Roma, devono stare ad ascoltare quello che dice la gente tu mi si interrompo, però io preferirei che ci sia un rapporto dialettico molto dialettico, bene, però uno qui comincia a scattare, mi piacerebbe raccontare questa storia vengo dal sindaco l'altro giorno col maresciallo, dopo che ho dormito, sul tetto, sul tetto dormito sui due centimetri che i travi saltano giù, pesano 19 quintali, potrei morire un'altra volta ma sono già morto da una merce allora io mi chiedo, questi soldi, questi benedetti soldi, perché qua questa sera non avete parlato di soldi che molti soldi per costruirlo, non fra sei mesi, sei mesi noi siamo già morti, non so se lei lo capisce, la mia azienda, io parlo della mia adesso, la mia azienda, cinque macchinari sotto, due cappannoni, io sono a terra, lei ha l'orologio adesso lì nel colso, se lei lo guarda ogni minuto che passa, diventiamo vecchi tutti, va bene, le aziende muoiono, queste le aziende muoiono non abbiamo più da lavorare, gli operai, la cassa integrazione non la tirano, insomma vi rendete comodo, voi i soldi li prendete tutti i mesi, io gli ho letto il sito, lei mi ha risposto ma io lavoro, io sono sei mesi che non lavoro, non so se avendo l'idea, voi prendete i soldi tutti i mesi, allora bisogna che vi date una sbossa, qua la gente, qua la gente si rompe i coglioni, io mi sono rompe i coglioni, loro possono fare quello che vogliono, però qua va a finire che da qualche volta uno si alza la mattina, non vorrei che tornassimo indietro negli anni 70, le brigate, sapete se le andavano a fare le carine, perché la gente, secondo voi, la politica, avete messo la politica con quello che è successo, la politica l'avete messa lì voi, tutta lì, basta, qui dovete finire giù, quanto vuoi, 20 mila euro, 30 mila euro, metti posto alla casa, basta, basta, se nessuno si alza i piedi e va via incazzato, e perché gli va bene così, qua a tutti gli va bene che due parole fatte bene che io non ci ho capito detto niente, quello che lei ha detto, io non ci ho capito detto niente, perché ho fatto la quinta e la metà, proprio per quello, però io la mia azienda lo so mandare avanti, senti voi che non sapete mandare avanti l'Italia, basta, basta, a noi italiani ci stanno bene, dei politici, scusi eh, se lo mettono l'appieno qui,